A Grotte, sabato e domenica prossima, 10 e 11 settembre, si svolgerà la terza edizione dell'autoslalom Città di Grotte, Memorial Jose Sollima. Le interviste di lancio. Tra sabato e domenica, 10 e 11 settembre, a Grotte, la terza edizione dell'autoslalom Città di Grotte, Memorial Jose Sollima. Sì, è proprio così. Io sono Nicola Cirrito, l'organizzatore tecnico del Team Paliché. Siamo alla terza edizione, una gara che nasce sullo slancio di questa famiglia Sollima per ricordare la figura paterna e che nell'arco dei suoi tre anni di vita ha già raggiunto il campionato siciliano e la validità per lo Challenge Paliché. Due chilometri e mezzo, dalla contrada Fiumara fino alle porte del paese di Grotte, la partecipazione dei migliori specialisti della specialità, dello slalom, chi è adesso in testa al campionato siciliano, chi è in testa allo Challenge Paliché, di cui questa è l'ottava prova. Chiaramente per il paese sono due giorni di grande festa, di grande movimento, non solo sport, ma soprattutto promozione turistica, promozione enogastronomica. Ci sono tutti gli specialisti del momento in questa gara, sia perché è un percorso molto tecnico, anche molto impegnativo dal punto di vista puramente sportivo. E ovviamente noi da parte nostra, sabato e domenica, con sabato le verifiche sportive al bar La Sosta, proprio all'ingresso del paese, subito dopo l'arrivo, e domenica mattina soprattutto gara, tre masci cronometrate a partire dalle ore 9, aspettiamo tutti gli sportivi. Ovviamente i piloti sanno in linea di massimo quello che devono fare, lo sanno molto bene. Agli sportivi diciamo di venire e di rispettare le regole del buonsenso, dell'educazione, della sicurezza. Ci sono gli ufficiali di gara che danno disposizioni e quando questo avviene tutto si trasforma in una festa. Da parte nostra il massimo impegno è ovviamente l'augurio di tanto, tanto buon divertimento. Io sono il figlio, Modesto Solli, ma non che pilota. Stiamo appunto organizzando questo Memorial già il terzo anno, grazie a Nicola Cirrito, per ricordare la figura di mio papà, grande appassionato di macchine. E niente, spero che anche quest'anno sia una grande festa, visto le passate edizioni, e di poter continuare a portare avanti questo Memorial a cui tengo molto, cioè sia io che tutta la comunità di Grotte, dove mio papà era molto conosciuto da tutti e stimato da tutti. Grazie a Nicola Cirrito che ci segue e ci supporta. Cerchiamo di fare questo grande evento, che sia una bella festa per tutto il paese e che tutti i piloti e i partecipanti si possono divertire.